Grazie, vi chiedo scusa se sarò molto emozionato e che quindi non riuscirò ad esprimere compiutamente le cose che voglio dire in questi brevissimi dieci minuti. Non sono abituato a parlare dinanzi a platee di questo tipo, in genere le mie platee sono i tribunali che sono un po' diverse da questi. L'onorevole Veltroni mi aveva chiesto di parlare di legalità e di antimafia, ovviamente io lo farò tenendo presente che non sono affatto uno scrittore, sono un magistrato e lo farò quindi con l'approccio pratico anche cercando però di dire qualcosa su quello che è avvenuto certamente ma anche su quello che si può fare su questo tema. Perché è vero che il problema mafia dovrebbe essere un problema centrale in un programma politico che voglia girare realmente pagina. Delle mafie noi ormai sentiamo parlare sistematicamente, non c'è programma politico sempre che non metta al centro la lotta alla mafia. Ovviamente si può mettere al centro la lotta alla mafia in cento modi diversi, come fatto propagandistico, accompagnandolo poi a esortazioni a non parlare troppo di mafia. Perché parlare di mafia significa rovinare l'immagine dell'Italia all'estero, oggi sappiamo che invece l'immagine dell'Italia all'estero è rovinata da ben altre cose. Ma sappiamo anche che si continua a dire che di mafia non bisogna parlare, che il problema è Roberto Saviano che parla di mafia, non che la mafia esiste. E allora cominciamo a dire ciò che è avvenuto in quest'ultimo periodo, depurando le cose che sono avvenute dalla propaganda. Io credo che negli ultimi anni la lotta alla mafia è stata fatta abbastanza bene, si sono ottenuti risultati concreti, ma si sono ottenuti risultati concreti sbandierandoli come risultati della politica. Lì dove io credo sia giusto ricordare il sacrificio delle forze dell'ordine e fatemelo dire con orgoglio, dei magistrati che vengono quasi sempre dimenticati quando si tratta di ricordare i risultati. Io riconosco al Ministro Maroni di avere svolto in questo periodo un'opera meritoria, di essersi fatto vedere spesso nei luoghi in cui di mafia si doveva parlare, non solo quando c'erano i risultati, ma anche quando si doveva pianificare. Io credo che mai un Ministro degli Interni sia venuto a Caserta tante volte quando è venuto Maroni. Però è anche vero che ci si fa vedere soprattutto quando c'è da mettersi la medaglia sul petto. Questo grande attivismo c'è solo quando si tratta di arrestare pesci piccoli, estorsori, omicidi, ma cambia completamente quando si tratta di affrontare il vero livello della mafia. Quei magistrati che erano stati osannati per aver arrestato i più importanti latitanti del Casertano diventano dei brocchi, degli incapaci e degli imbecilli quando inquisiscono un sottosegretario del governo. Quella lotta alla mafia che si fa con grande forza nei confronti dei pesci piccoli non si fa con forza quando si tratta di sciogliere i consigli comunali. La riforma dello scioglimento dei consigli comunali che è stata votata nel 2009 va detto con forza, è una riforma pessima che sta dando prova di sé ancora peggiore. Ha fatto venire completamente meno il controllo che c'è negli enti locali, in un momento nel quale si parla con forza di federalismo. Io voglio dire su questo argomento una parola un po' diversa da quella che si sente tutti i giorni. Il federalismo è una novità importantissima ma pericolosissima al sud. Le mafie sono federaliste antelitteram, hanno sempre avuto la capacità di appropriarsi degli strumenti economici dati agli enti locali. Ora, sarebbe un paradosso voler bloccare una riforma epocale perché c'è la mafia, ma è ugualmente un paradosso che non si tenga conto nel momento dell'attuazione delle regole sul federalismo locale della variabile mafia. È un paradosso che fra tutte le questioni di cui si sta parlando, nessuno parla di quali possono essere gli effetti disastrosi del federalismo e del maggiore potere di spesa dato agli enti locali al sud, ai comuni infiltrati, per i quali è venuto meno ogni meccanismo di controllo preventivo ed è venuto meno anche il meccanismo di controllo dello scioglimento dei consigli comunali. Allora federalismo sia, ma accompagnato da controlli veri, rigorosi, preventivi, che non facciano un altro regalo alla mafia. Non vorrei che ancora su questi argomenti la magistratura fosse considerata una sorta di Cassandra, per potersi poi svegliare domani e rendersi conto che il programma di Miglio, che era in Sicilia sostenuto direttamente da Totò Riina, non fosse un regalo pericolosissimo alle mafie. Noi dobbiamo garantire la certezza che i poteri degli enti locali non vengano strumentalizzati. Questo va fatto consentendo controlli veri. La parola controllo, la parola controllo preventivo nella pubblica amministrazione è stata completamente dimenticata. Noi abbiamo accettato l'idea che i poteri delle amministrazioni locali debbano essere controllate assolutamente mai, se non dall'intervento della magistratura, che spesso è distante e poco efficace, e nella migliore delle ipotesi vede la chiusura dei processi con la prescrizione. Quindi attenzione a quelli che possono essere gli effetti e attenzione ad un'analisi che non tiene conto delle realtà effettive. Io sento dire che con il federalismo aumenterà la capacità degli enti locali di raccogliere le tasse. Io vorrei ricordare che il più alto livello di evasione delle imposte locali si trova nei comuni a più alta densità mafiosa. Se noi non prevediamo meccanismi di controllo vero, reale, repressivo sugli organi che non fanno il loro potere, perdiamo tempo. E l'altro aspetto che io voglio dire parlando di lotta alla mafia è che credo che sta passando un'idea e una filosofia di fondo ugualmente pericolosa. Un'idea e una filosofia di fondo che ritiene che la lotta alla mafia si possa fare semplicemente con la repressione, arrestando un po' di mafiosi e buttando le chiavi, lo si dice chiaramente, arrestiamo, buttiamo le chiavi, teniamoli per tutta la vita in carcere, facendo crescere in Italia un clima regressivo, un clima che definire conservatore è poco, un clima che consente di dire a un esponente politico che nei confronti degli studenti che manifestano bisogna intervenire con gli arresti preventivi. Gli arresti preventivi sono un istituto che non era stato previsto neanche nei confronti del periodo del terrorismo, si era agito con i fermi, ben altra cosa. Gli arresti preventivi erano un residuo del periodo fascista, quando il Duce andava nelle località e si arrestavano gli antifascisti per evitare che protestassero. Ma in questo clima si è consentito che si potesse riparlare di arresti preventivi. Noi stiamo dimenticando la centralità delle garanzie, ci stiamo avviando in qualche caso anche con il beneplacito delle forze di opposizione spesso ad una visione tutta repressiva della realtà, dimenticando completamente che per esempio il fenomeno mafie non può essere affatto vinto pensando che le mafie siano qualcosa di diverso dal resto. Per esempio, come si può pensare di vincere la lotta alle mafie avendo un sistema che dal punto di vista degli effetti della corruzione sistemica è fra i più elevati del mondo. Nelle classifiche di percezione della corruzione l'Italia si trova al di sotto di paesi dell'Africa come il Gabon. eppure il piano anticorruzione preparato dal governo, un piano assolutamente non significativo, è stato messo nel cassetto. L'Italia ha aderito a varie convenzioni europee sulla corruzione e nel 31 dicembre del 2011 dovrà essere valutata da un organismo che si chiama Greco che ha già rilevato come tutta una serie di indici aiutino l'Italia ad essere un paese corruttibile. La lotta alla mafia non può essere fatta unidirezionale pensando che la mafia nasca così dal caso. Non è un caso che quanto peggio funzionano le amministrazioni locali tanto peggio operano le organizzazioni dal punto di vista mafioso. E allora concludendo, scusandomi se sono stato disorganico, io credo che bisogna per il futuro avere il coraggio di operare con un programma riformista reale anche sul piano normativo. Bisogna avere il coraggio di adottare una politica in materia anticorruzione fortissima, quantomeno recependo quelle che sono le convenzioni internazionali che abbiamo già firmato. Bisogna rilanciare il ruolo della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione non è un danno per il nostro paese, non si può pensare che la pubblica amministrazione possa essere governata pensando che ci sono solo fannulloni. La pubblica amministrazione è un argine vero se funzionante per la corruzione e la mafia. E poi bisogna mettere mano davvero alla riforma della giustizia, ma non una riforma della giustizia fatta nell'interesse dei potenti. Una riforma della giustizia che metta al primo posto l'efficienza del sistema. Fatemi dire un'ultima cosa, diventa veramente difficile poter pensare ad una riforma della giustizia quando i magistrati vengono ogni giorno oltraggiati. Quando nella migliore delle ipotesi si dice che i magistrati sono persone mentalmente deviate. Quando lo si dice nei consessi internazionali, all'atere dei consessi internazionali, si va a parlare di quella che è la nostra situazione sulla giustizia. E poi ci meravichiamo che uno Stato come il Brasile non ci dà l'estradizione di un terrorista. Ma se l'immagine che noi diamo della giustizia italiana è di magistrati che sono deviati mentali, perché il Brasile ci avrebbe dovuto ridare Battisti. Io vorrei invece ricordare, l'ho già fatto l'onorevole Veltroni, che i magistrati che ci hanno dato lustro anche a livello internazionale andrebbero ricordati ogni giorno. un solo nome, Giovanni Falcone. E ci serva anche da modo per recuperare l'immagine all'estero. Io mi capita spessissimo di andare all'estero e di essere identificato come italiano, quindi mafioso. E io a questa affermazione, Italia uguale mafia, rispondo no, Italia uguale Falcone. Grazie.